Non siamo più per la strada, ti senti al sicuro adesso? Sì, proprio al sicuro. Ehi, da questa parte. Qui dentro. Buonasera signori, benvenuti. Buonasera Sagat, bella festa. Non ti ha detto nessuno che c'è il coprifuoco? A Shadaloo City nessuno mi dice mai niente. Dalle 19 in vigore il coprifuoco a Shadaloo City. Nessuno dovrà circolare dopo tale ora. Posso offrirvi un drink o qualcos'altro? Saltiamo l'aperitivo e occupiamoci subito di affari. Tu ce l'hai o noi 100.000 dollari? E voi avete le armi? Sono nascoste. Quando saremo fuori con i nostri soldi, ti chiameremo e ti diremo dove si trovano i tuoi fucili. Siamo d'accordo allora? Questo ti serve, Sagat. Oh no! È inutile, tanto so già che le armi sono sul molo, dietro la fabbrica di birra di Mount Braiser. Infatti, i miei uomini hanno già scaricato il furgone e hanno portato qui le armi. Che vi prende, signori? Certo non avrete paura delle vostre stesse armi. Bretto! Tanemole! Pafu! Giocattoli! A me piacciono i giochi dal vivo. In carne ed ossa. Interessante. In fondo non siete tutte chiacchiere allora. In me si può fare alcun a dueuestos che preferire sono cinquezza di barbrica delanese. Gli morti va previstare, eser a un'imaepa di tutto questo personale.